in sala sono presenti anche i finalisti appunto del concorso quindi chiamo per la consegna dell'attestato Antonio De Rosa con cosa vuoi che sia ringrazio tutti quanti perché è la seconda volta due anni fa ho vinto pure il secondo post e poi voglio ringraziare un mio amico Elio Grisolia che mi ha dato l'input per scrivere questa poesia grazie chiamo qui sul palco Paolo Tulelli viene da Maggisano in provincia di Catanzaro per l'attestato ringrazio a tutti e soprattutto a voi organizzatori per la bella serata che ci state facendo passare, grazie grazie un altro poeta dalla nostra terra di Calabria è importante Fernando Rizzello io vorrei ringraziare gli organizzatori io vengo da Casarano in provincia di Lecce dalle due e mezzo che sono in viaggio e devo dire che ne è valsa veramente la pena e vorrei di nuovo ribadire i miei complimenti quando ho sentito la poesia le poesie dialettali mi sono venute le lacrime agli occhi perché io ho origini calabresi non avevo cipolla mio nonno era di origine calabrese era di Fagnano Castello quindi quando ho sentito ho sentito la poesia ecco un po' mi sono mi sono emozionato è la prima volta che partecipo ad un concorso ad un concorso di poesia benché ne abbia scritte ne abbia scritte decine perché sono sempre restio a pubblicare o a partecipare a dei concorsi perché per me la poesia non c'è una poesia bella una poesia brutta non c'è una poesia vincitrice una poesia perdente per me la poesia è sempre vincitrice perché? perché non ci possono essere dei canoni oggettivi per valutare una poesia la poesia è la soggettività la poesia è soggettività per me tutte le poesie in gara erano vincenti tutte le poesie in gara erano meritorie del primo posto qui questa sera io ho voluto partecipare prima di tutto perché era quando ho letto Cosenza ho detto vabbè partecipiamo e la mia ragazza ha detto partecipate a Firenze questo a Grosseto ho detto no io partecipo a Cosenza perché perché sono un meridionalista convinto un terrone come dice lui sono un meridionalista convinto e mi andava di contribuire nel mio piccolo nel mio minimo a questa serata di cultura qui a Cosenza grazie che entusiasmo Fernando ha ragione bisogna bisogna condividere comunque anche se per i poeti è sempre difficile riuscire a mettere a nodo il proprio io Francesco Proto Papa con Pace bollente mi sono emozionata sono molto contento di essere qua questa sera in mezzo a questa bella gente un bel posto per il resto condivido in pieno quanto ha detto il mio conterraneo Fernando non c'è molto altro da aggiungere anch'io sono venuto molto molto volentieri qua a Cosenza non ce l'ho mai stato prima sono venuto convintamente non mi interessava tanto per il gusto di partecipare per eventualmente ottenere un piazzamento però è importante essere essere qui per assaporare un'atmosfera poetica ecco non so che dire sono molto emozionante grazie grazie in effetti è una serata emozionante